Il centrodestra è la coalizione che ha vinto le elezioni del 4 marzo. Siamo disponibili a confrontarci con chiunque, ma non accettiamo veti da nessuno. Al Presidente della Repubblica, come centrodestra unito, offriremo la nostra visione sulle soluzioni e sui provvedimenti da adottare per affrontare le grandi emergenze del Paese. Tasse, lavoro, sicurezza, immigrazione, povertà.